La domanda che il cittadino e l'opinione pubblica più in generale si pone riguarda lo scopo di tante istituzioni ed enti, la cui presenza rientra in un linguaggio ed una conoscenza diffusa, ma che in realtà costituisce una zona d'ombra significativa. Per questo la Camera di Commercio di Padova, nell'introdurre il bilancio di metà mandato della Giunta guidata dal Presidente Antonio Santocono, ha reso noti i risultati di una ricerca a cura dell'Istituto Ipsos che ha confermato un aspetto, soltanto il 30% degli imprenditori associati sa a cosa serve una realtà come questa. Formazione, innovazione ed internazionalizzazione sono termini chiave per comprendere le attività e le progettualità camerali, che risultano sempre più mirate e specifiche anche per un sostegno economico e di consulenza, in un'ottica di coordinamento tra Camere regionali. Sono cinque in Veneto ed associazioni di categoria. Ruolo che ha assunto un significato particolare proprio nel 2020, anno dell'esplosione dell'emergenza sanitaria. Dal risultato anche di questa conferenza stampa avete visto che è emerso che oltre il 77% del contributo camerale è stato riversato, e parlo di quello ordinario, non parlo del 20%, è stato interamente riversato sul territorio ed è uno dei valori più alti a livello nazionale. È chiaro che anche a livello di Camere di Commercio regionali c'è un grande coordinamento, sia per questo avviene attraverso la nostra organizzazione di Union Camere, ma sia attraverso le relazioni fra i Presidenti e le Giunte che hanno cercato in qualche modo di allinearsi, per esempio sul credito, l'iniziativa sul credito sono state praticamente condivise da tutte le 5 Camere regionali, per cui sono state importate sul territorio immediatamente quasi 20 milioni di euro mettendoli assieme. Ma non è solo quello, abbiamo una Camera, in questo caso vorrei sottolineare il ruolo della Camera di Commercio di Pada, una Camera dove il rapporto con il mondo delle imprese e il sistema associativo è particolarmente armonico in questo momento. Abbiamo un Consiglio camerale che ha preso tutte le decisioni all'unanimità e quindi un Consiglio nel quale sono rappresentate tutte le associazioni di categorie sul territorio, però ha ritenuto che tutti gli interventi e le iniziative fossero condivise. Il ruolo di sostegno all'imprenditore è chiaro anche attraverso l'istituzione di specifici portelli ed attività capaci di fornire un autentico orientamento in momenti delicati come quelli che viviamo non soltanto dall'inizio dell'emergenza pandemica, ma che si possono far risalire addirittura alla crisi del lontano 2008 che già aveva impresso una svolta emblematica nella congiuntura internazionale. Nel corso del 2020 noi abbiamo attivato molte iniziative in questo contesto, la prima è quella di bandi di finanziamento alle imprese, in particolar modo per il sostegno al credito, abbiamo attivato poi delle linee proprio di sostegno al credito tramite i consorzi FIDI, una linea completamente nuova che stiamo mettendo appunto sul social lending che proprio va sul micro credito e poi abbiamo messo appunto due sportelli che sono importantissimi uno è il punto impresa digitale per aiutare le imprese anche in questo momento alla transizione al digitale e il secondo lo sportello mentore che è servito proprio per aiutare le imprese ad uscire da questo periodo complicato che era anche quello di comprendere tutto il tema di codici a teco che potevano o meno garantire l'esercito dell'attività ma anche opportunità di business dove andare a reperire finanziamenti o semplicemente una parola di ascolto per essere incoraggiati ad andare avanti e non finire su trame che potrebbero anche portare alla criminalità organizzata.